Una fotocopia, ma subito! Una fotocopia, presto! E non corre così, si compra una copiatrice tutta per lei. La nuovissima Canon Personal PC14. Economica anche per poche copie al giorno. Niente manutenzione, 5 anni di garanzia. Cartucce per copiare in 6 colori. Le copiatrici Personal Canon sono le più vendute nel mondo.